Teletruria fa 50, nacque nel 1974, quindi ce n'è di storia da raccontare. Ricordi, aneddoti, passioni e personaggi di mezzo secolo. Ne parliamo con Ivo Brocchi, non c'è bisogno di presentazione. Buongiorno, caro Luca, buongiorno a te. Ivo, allora, 50 anni, quando iniziaste questa grande avventura, quali erano un po' le vostre aspettative, i vostri desideri anche? Io guarda, bisogna prima fare un attimo di cornice. Molti non sanno che nel 1974, perché parliamo a tutti, ma solo quelli con i capelli bianchi si possono ricordare, che non c'erano i telefonini, non c'era internet. Ad Arezzo c'era una sola fonte di informazione, che era la nazione. PC, che era la targa di Piacenza, e non personal computer. Esatto, e quindi volevo dire, non c'era nulla che informava, faceva conoscere in città, non c'era nulla. La coda alle edicole c'era per comprare i quotidiani, chi li comprava? Tutti insieme, i quotidiani in provincia del resto, vendevano 20.000 copie, 25.000 copie, non è che ne vendessero 300.000, quanto siamo gli abitanti. E quindi c'era, diciamo, un modo di vivere diverso. Le discoteche aprivano al pomeriggio e a mezzanotte erano chiuse, oggi si esce a mezzanotte di casa. I collegamenti erano più sociali, si facevano le feste nelle piazze, anche in tutti i luoghi. E quindi c'era un modo di vivere totalmente diverso. L'inflazione nel 74 era al 24,6%. Quindi il mondo era proprio totalmente diverso. In quella fase che succede? Succede che c'è un buco, c'è un vuoto normativo nel nuovo codice postale, che tutelava al 100% la trasmissione via etere alla RAI, come monopolio di Stato, come monopolio nazionale, però non parlava del locale, assolutamente. E non parlava del cavo, soprattutto. Scusa Ivo, c'era il Tg3 Toscano e il Gazzettino Toscano? No, il Tg3 non c'era ancora. Il Tg3 nasce nel 79. Nel 79. C'era il primo e il secondo RAI. E da noi si vedevano anche Telemonte Carlo e Capodistria. Capodistria vista soprattutto di notte, quando era un po' vietato a minore di 18 anni la televisione. Tanto per essere chiari. Con il cavo ci fu qualcuno che pensò di partire. E quel qualcuno è Antonio Di Meco, che era già il giornalista del Messaggero, faceva il consulente aziendale, però ebbe questa idea, dice perché non proviamo ad inserirci in questa falla delle normative nazionali. E fu così che si misero insieme quattro soggetti. Lui, Luigi De Filippis, che era il proprietario della vecchia buca di San Francesco, era passato a Bertelli. Gianfranco Duranti, sul quale potremmo parlare non uno spunto e spuntino, ma qualche settimana senza interruzioni. E il quarto socio era all'epoca Massimo Bartolozzi, consulente della GEPI, quindi conosceva anche certi ambienti. Ci fu l'aiuto forte di Banca Etruria, che capì che questo progetto poteva essere una cosa utile al territorio. E così questi quattro amici al bar decisero di partire. Di Meco prestò il suo studio personale per poter fare lo studio di Teletruria in Corso Italia 205, molti lo ricorderanno, sopra Renato Tessuti. E da quella finestra uscirono a un certo punto un mazzo di cavi bianchi, come se fossero delle luminarie di oggi, che andavano nei portici di Via Roma e nei portici di Piazza Tagliacopolo. Fuono messi quattro o cinque televisori di quelli antichi, a valvole di legno esterni, con le immagini, immagini in bianco e nero sfumatissime, incredibili. Però a un certo punto ad Arezzo si scoprì che si poteva vedere Arezzo in televisione, nella propria televisione. E lì fu la coda davanti a questi monitor. C'era la coda davanti a monitor. A guardare Arezzo e a sentire le voci degli Aretini, anche in dialetto spesso e volentieri, a iniziare dalla mia. C'è un po' di commozione. Devo dire la verità, c'è un po' di commozione. E quindi questo provocò subito un interesse grande. E lì ci fu lo scatto immeiato dopo. Cambiarono un paio di soci. Entrò Mauro Serafini, per esempio, Gallucci degli Ascensori, Scetoloni di Albergo. E questo nuovo gruppo decise di passare subito all'Etere, sapendo di essere totalmente fuori legge rispetto alle normative nazionali. Però fu fatto questo passo e il passo fu eccezionale. Fu la fortuna degli antennisti, perché montavano le antenne su tutti i condomini e le case di Arezzo e provincia. Fu la caccia ai posti buoni in cima alle montagne, ai poggi, diremmo noi, per poter mettere un ripetitore oppure in qualche campanile di chiesa, eccetera, per mandare il segnale. Il famoso 46 UHF. Molti non si ricorderanno cos'era, ma chi ha qualche capello bianco... Il ripetitore, scusami, ce n'era una a Palazzuolo, se non sbaglio, vicino a Monte San Savino. Ma ce n'era una a Caggiarino, sopra Civitella, che è stata in funzione per tanti anni. Oggi è un segnale da dove passa il 5G. Pensa un po'. È una trasmissione che passa il 5G. E insomma, fatto sta, questa televisione prende campo. E gli aretini si innamorano di Teletruria. Perché se ne innamorano? Perché tutte le sere, alle 8 e mezzo, in anticipo rispetto, per esempio, alla Nazione, che usciva il giorno dopo, perché le notizie erano del giorno... Le notizie si casse con sui giornali, sono del giorno prima. È certo. Non sono del giorno stesso. Ed ecco che quel telegiornale diventò un appuntamento fisso degli aretini. Non c'era concorrenza. E quindi, tutti quelli che guardavano la televisione, alle 8 e mezzo, dopo il TG1 o il TG2, venivano a guardare la tua televisione. E iniziò a conoscere questi soggetti, molto spesso, anche un po' sprovveduti della materia. Perché, diciamo, di esperti ce n'erano pochi. Romano Salvi, va ricordato, perché era già un collaboratore della Nazione. Poi esterni c'erano Carlo Brandini Dini, Giovanni Melani, Ha collaborato anche Mario D'Ascoli per un po' di tempo. Chi? Mario D'Ascoli anche per un po' di tempo. Sì, anche Mario D'Ascoli, un po' di... Tonino Morelli. Tonino Morelli, bravo. Mi fa il piacere ricordare anche tanti amici che non ci sono più. Ebbene, questi che iniziano a diventare amici delle persone. Perché tu quando accendi la televisione e questi stanno pranzando, cenando, eccetera, sei lì con loro, sei al loro tavolo per essere... Vedo anche Don Renato Bertini. Don Renato Bertini che per una vita ci ha informato su come andava il polifonico, ma anche su tutti gli altri appuntamenti legati alla religione, insomma. Ivo, il tempo sta volando letteralmente perché stiamo ricostruendo un po' anche la storia della città. iniziò quindi l'informazione e ha avuto sempre grande importanza. Al centro, sempre al centro dell'emittente. Ma c'erano anche altre cose, perché all'epoca si facevano anche trasmissioni leggeri di divertimento. Il giochino è durato 15 anni, presentato da Vittorio Roggiolani, con Massimo Cocchi, con la Vismara Corazzesi, che presentava con loro. Inventarono il famoso barattolo con i fagioli da indovinare. E questa cosa la vide Boncompagni, Gianni Boncompagni, Aretino, un pomeriggio che viaggiava per il corso con Raffaella Carrà, perché veniva sempre a trovare la D'Arezzo Raffaella Carrà. Ivo, poi... E si portarono il giochino a Roma, alla RAI. Il giochino a Roma, alla RAI. Poi ricordiamo la presidenza Lebole, e poi la presidenza Butali, Butali ha legato proprio il suo nome. E da allora una stabilità forte dell'azienda. Assolutamente. E' arrivato Butali che ha dato un'impronta di modernità, perché lui cercava sempre cose nuove, però stava molto attento a non perdere la retinità. E vedo che proprio in questi giorni lo ha ricordato anche Sandra Butali, che è l'attuale presidente della Butali, dicendo non dobbiamo perdere la retinità, anche se il nostro segnale ormai è perfetto, va in tutta la Toscana, in tutta l'Umbra, eccetera. Però attenzione a non perdere la centralità di Arezzo. La centralità di Arezzo. E il futuro, Ivo? Il futuro non lo... Io sono un uomo del passato, sono un uomo del Novecento io ormai, quindi io di Teletria posso parlare per quello che è accaduto fino al 2011. Io il mio ultimo programma l'ho fatto la notte del 27 dicembre del 2010, quando ci fu... Per fortuna non fu un disastro, fu un evento però che per le prime ore sembrava poter diventare catastrofico e lì facevamo un lavoro di notte incredibile, veramente. Ci fu una partecipazione... Pensa che eravamo nelle feste di Natale, c'eri anche tu. Come no. C'era Gianfranco Duranti che correva avanti e indietro a cercare notizia, a telefonare a sindaci, a telefonare in prefettura. E Teletria, in quell'occasione, come ha fatto tante volte prima, si è messa veramente a disposizione anche della protezione civile. Certo. In quel momento c'era da dare informazione alla gente, uscire di casa o stare in casa se abiti, per esempio, vicino a Sansepolcro, nella parte bassa. A Città di Castello te ne devi andare oppure puoi stare in casa tranquillo. Non erano cose facili, perché la chiarezza non c'era ancora su quello che era successo. Si vedeva queste immagini realizzate alla meno... Anche Gigi Alberti, forcorsi, abitava, abita alle ville, quindi l'attuale direttore corsa a vedere cosa era successo. Le notizie erano frammentari. Fino alle tre di notte, finché non avevamo la certezza che la situazione era tranquilla, continuavamo. Ma tante altre volte è successo con scosse di terremoto nella notte, è successo con situazioni sempre di emergenza. Teletrui ha fatto anche un grande lavoro sotto il profilo della solidarietà. A me piace ricordare sempre i primi tempi, ma noi nel 76, con il terremoto di Udine, di Del Friuli, Venezia Giulia, organizziamo con il vecchio maestro Cantaloni una raccolta di prodotti da mandare a Montenarze, con cui ci siamo gemellati come città. Ma era una cosa incredibile quanto la gente correva a portare materiali e merci. Nell'80, quando ci fu il terremoto in Irpinia, che andarono come inviati a seguire la carovana retina condotta dall'ingegner Cardinali, Mauro Bellachioma e Claudio Caloni, che fecero un reportage micidiale a Sant'Angelo dei Lombardi, coordinato da Brunetto del Vita. Coordinato da Brunetto del Vita, un'altra figura centrale che ha insegnato in questo emittente ad essere grandi professionisti. Perché vedi, quando nasce nel 74 a Teletruria, grazie anche alle capacità tecniche di Guglielmo Franceschini, va ricordato, una grande persona, ovviamente come tutti gli artisti un po' particolare, però quando voleva fare le cose le sapeva fare. Quando arriva a Brunetto del Vita, che era un mago della comunicazione pubblicitaria, però avendo fatto il regista anche per dei film, insegnò qual era il linguaggio giusto per entrare in televisione, per arrivare subito all'assodo. E li ricordiamo tutti con affetto. I tecnici nostri sono stati bravi perché hanno imparato da lui, tutti quanti, ricordiamo Caloni, Vardi, Teci, Antonio Chedici, che non è stato un tecnico, è stato un dirigente di questa azienda, è stato anche direttore di 102 TV, dove tu sei stato per un po' di anni, quindi te lo ricorderai. E voglio dire, era uno ormai del gruppo di comando della nave, insomma, ecco, una grande persona. Ivo, promettimi che tornerai ancora, a spunti di vista. Se mi chiami tu come faccio a dire di me? Ti ringrazio. Grazie, grazie davvero a Ivo Brocchi. La linea può tornare per il momento alla regia. Grazie.